ciao a tutti amici di animazione compleanni in questo tutorial vi farò vedere come fare un trucca viso diciamo il trucca viso preferito da tutti i maschietti cioè il trucco da spider man dobbiamo prendere una spugnetta prendere il bianco e disegnare un triangolo al di sopra degli occhi anche al di sopra delle sopracciglia con il pennello adesso andiamo ad intensificare il bianco ok adesso con un'altra spugnetta coloriamo con il rosso la parte in mezzo ai due triangoli bianchi a tutti Grazie a tutti. Ok, adesso prendiamo un pennello abbastanza grosso e con il nero disegniamo il contorno ai due triangoli bianchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi, sempre con questo pennello e sempre con il nero, iniziamo a disegnare la ragnatela. Disegniamo qui in centro tre linee che vanno dall'alto verso il basso e cerchiamo di lasciarle un pochettino più grosse in alto per farle diminuire scendendo. Grazie a tutti. Poi cambiamo pennello e disegniamo il collegamento tra le linee che formano la ragnatela. Grazie a tutti. Poi cambiamo il pennello e ne prendiamo un pochettino più rigido e disegniamo un ragnetto qua, in mezzo agli occhi. Grazie a tutti. Torniamo al nostro pennellino di prima per disegnare dei puntini neri, qui dove finisce la ragnatela rossa. Ora dobbiamo solo rifinire, ritoccare la ragnatela. Sempre con un pennello molto sottile, con il bianco. Disegniamo un po' di ombre. Ecco qua, sono pronta per diventare Spider-Man. Spero che questo tutorial vi sia utile, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao a tutti, al prossimo video!